Non lo facciamo in Toscana? Va bene, mi sta bene perché io lo so, a me non piacciono, io non li voglio, le ritengo che non siano una soluzione, ma non ci possiamo prenderci in giro, perché è da 2015, da quando la delega per l'immigrazione nazionale, io e poi altri sindaci chiediamo di cambiare completamente la normativa sull'immigrazione, il testo di unione sull'immigrazione è del 2002, 2002, allora io sto chiedendo di dare risposte nuove, moderne, all'altezza della situazione, una sfida complicatissima, affascinante, ma complicatissima, difficile, incandescente politicamente, che è l'immigrazione, con un nuovo testo unico, un nuovo impianto, perché se no si dice no a una cosa, ma non si dà un'altra soluzione, anzi, vabbè, tanto ce l'hanno le altre regioni, andranno dalle altre parti, detto no, e diciamo tutti no, siamo pronti, sfido io tutti quanti a mettere mano domani, ma domani però, al nuovo testo unico sull'immigrazione, allora sì che si potrà essere coerenti dicendo non ci piace questo impianto, non lo consideriamo valido, io sarò lì a dare una mano, perché altrimenti noi facciamo una roba diversa da quella che il Partito Democratico deve fare, su un tema così, su un tema che impatta in maniera, come dire, assoluta sui nostri territori.